Ansa, Roma. 8 giugno gol e spettacolo fra Polonia e Islanda, 2-2, a Poznan, nell'ultima amichevole della nazionale guidata da Paolo Sousa prima della fase finale dell'europeo. Il CT portoghese ha schierato dall'inizio diversi protagonisti della Serie A, dallo Juventino Scesni fra i pali, a Glick e da Uidovic in difesa, a Jelinski a centrocampo. Il centrocampista del Napoli ha segnato al 34esimo minuto il momentaneo pareggio dei polacchi, le altre reti sono state realizzate da Gudmundsson, 26 minuti, e Bjarnason, 47 minuti, per l'Islanda. Nel finale è arrivato il pari dei polacchi firmato Swiderski, 88 minuti. Nel secondo tempo è entrato in campo Linetti del Torino, sono rimasti in panchina Skorupski e Berezinski. Ansa. Grazie a tutti. Grazie a tutti.